Radio Radicale, siamo con il senatore Claudio Borghi della Lega per parlare di come si è parlato della politica estera della maggioranza in questi ultimi giorni dove sono state sollevate parecchie polemiche sull'assenza di Salvini ieri al dibattito che si è svolto sul Consiglio europeo. Salvini però c'era oggi alla Camera e tra l'altro c'è stato anche un abbraccio con la Meloni. Allora come stanno le cose e come è stata raccontata la storia della rottura oppure delle due posizioni Meloni che ha un atteggiamento Zen e Salvini che attacca? Questo è tutto teatro messo in giro da chi ha dei problemi ben più gravi. Io ieri ero qua a vedere le votazioni e la maggioranza aveva una risoluzione. L'opposizione se non mi ricordo male ne aveva cinque o sei adesso non mi ricordo comunque erano cinque o sei votate per parti separate quindi questo va bene. Quindi sai mi varrebbe a dire che prima dovrebbero guardare i problemi a casa loro. Noi abbiamo delle posizioni all'interno della maggioranza che sono ovviamente diverse perché non siamo lo stesso partito e quindi è giusto che gli elettori lo sappiano insomma no perché è sbagliato anche cercare di far credere che nel nome dell'unità siamo la sessuale perché altrimenti saremo un partito unico ecco non lo siamo. Abbiamo delle posizioni differenti che erano già chiare prima delle elezioni quindi non abbiamo ingannato nessuno insomma no. Cioè la Meloni che avesse detto che Fratelli d'Italia era per il sostegno militare costi quel che costi all'Ucraina l'aveva detto chiaramente prima delle elezioni che noi non eravamo d'accordo sull'uso delle armi come strumento per ottenere la pace come questo tipo l'avevamo detto anche questo prima delle elezioni. Quindi insomma che le nostre posizioni erano note, trasparenti e così via poi ovviamente siamo all'interno, siamo una coalizione di maggioranza non sarebbe da pazzi pensare che le coalizioni si scindono ogni volta che c'è un disaccordo. Si portano avanti le proprie idee e prima o poi contiamo che la bontà delle nostre argomentazioni sia capita anche dagli alleati. Allora vuole dire qualcosa sull'affermazione che ha fatto la Meloni? Allora lei ha ricordato le cinque risoluzioni però questo tipo di politica oggi non potrebbe essere tenuto dal campo largo nel senso che il campo largo non avrebbe una posizione... Ma è evidente insomma ma è evidente anche a chi segue in modo distratto i lavori parlamentari cioè non c'è nessun tipo di unità all'interno del centro-sinistra che lo possa caratterizzare come alternativa possibile o praticabile. Vuole dire qualcosa anche sulle distinzioni che sono state fatte su Al-Sisi. Allora alla Meloni è stato rinfacciato questa cosa dell'incontro con Al-Sisi per l'immigrazione. Noi ricordiamo che all'epoca del governo Conte ci fu una grossa polemica per la vendita di alcune corvette addirittura Conte fu costretto a riferire in Parlamento e segretarono una parte di quella seduta. Ma l'Egitto è un paese importantissimo per gli equilibri mi verrebbe da dire di una vasta area ecco perché non stiamo parlando soltanto dei migranti ma si pensi anche al Mar Rosso si pensi al Mar Rosso, si pensi al confine con Raffa, con Israele e così così tipo quindi stiamo parlando di un paese che bisognerebbe essere animati a non tenere delle relazioni il più amichevoli possibile. Poi è ovvio che c'è stato quello che c'è stato e non è sicuramente che si possa girare pagina in modo semplice però è così importante insomma tenere le relazioni con tutti che ovviamente potrebbe essere molto più dannoso in termini di vita umane e così così tipo prendere e non tenere le relazioni. Senta un'ultima cosa come avete visto l'offensiva che c'è stata da una parte di un certo tipo di stampa nei vostri confronti allora io volevo sapere come l'avete come l'avete presa se ve l'aspettavate perché pensate di essere utilizzati come una sorta di Grimaldello per mettere in crisi l'alleante? No ma se questo cascano male io la vedo in un'altra maniera insomma cioè se per tutti se per la stampa di sinistra mi vorrebbe da dire no la faccio semplice anche se non c'è solo quella il problema è Salvini e basta togliere Salvini e la Lega rifiorisce torna al 50% tenuto presente che credo che l'ultima cosa che questi signori vogliano è che la Lega rifiorisca io quando ci sono gli avversari che danno questi buoni consigli mi viene in mente che forse Salvini è il caso di tenercelo stretto ecco mettiamola così Va bene la ringrazio grazie al senatore Claudio Borghi della Lega con il quale abbiamo parlato dei rapporti nella maggioranza la ringrazio molto Grazie